Ronaldo, i segreti della nuova supervilla, esagerato, passaggi sotterranei e chef di sushi. Cristiano Ronaldo è ancora senza squadra, dopo la rescissione con il Manchester United. Perciò si parla molto della sua vita fuori dal campo. The Sun rivela come sarà la nuova supervilla di CR7. Georgina e dei figli. Una vera e propria casa dei sogni, un comfort che i comuni mortali neanche possono immaginarsi. La nuova villa di Ronaldo costa 32 milioni di euro. La nuova villa di Ronaldo costerà 32 milioni di euro. Avrà una gigantesca piscina di vetro che permetterà di camminare sotto acqua attraverso un passaggio sotterraneo. La camera da letto principale sarà grande più di 90 metri quadri. Per rendere ancora più gradevole la permanenza in questa dimora. Ronaldo e Georgina hanno già assunto quattro dipendenti, tra cui un maggiordomo e uno chef specializzato nel sushi, con uno stipendio da 5.000 euro al mese. Virgola